Potrebbe dire la impressione generale della corsa Faraones 2009? Puoi dirci per piacere l'impressione generale della corsa 2000 Faraoni? La corsa di Faraoni di quest'anno è stata un'ottima gara per noi, anche in competizione con le altre gare. Abbiamo avuto degli ottimi risultati, anche a livello di iscrizioni. La gara è stata un successo, sia dal punto di vista degli iscritti che la soddisfazione da parte di tutti i partecipanti.